bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo video io sono xyuder e ragazzi perché sto caricando un secondo video a metà mattina perché appena successa una cosa incredibile per quanto riguarda la stagione 3 di fortnite la prima immagine ufficiale il primo teaser ufficiale della season 3 ci portiamo subito ragazzi direttamente allora con il classico overlay e guardate un pochettino su play store che immagine è presente sbam 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 tanta tanta roba ragazzi notiamo un autobus della battaglia che sorvola una distesa infinita di acqua mamma mia la vera domanda è ragazzi sarà tutta la mappa con l'acqua oppure semplicemente una grande porzione beh io mi auguro che non si di non si giochi a un gioco di battaglia navale barra battle royale comunque notiamo nello sfondo quelle tre palmette che spuntano direttamente da quella che sembra essere un'isola perché se ci pensiamo le palme le troviamo o sulle isolette oppure a sabbia sudate comunque molto vicino al mare il che potrebbe darci un'indicazione su quanto si alzerà o si abbasserà su quanto si alzerà il livello dell'acqua o si abbasserà la terra non lo sappiamo potrebbe anche succedere il contrario anche se ovviamente la teoria più comune è quella che si innalzerà con il doomsday il livello dell'acqua quindi ragazzi prima immagine ufficiale spero di avervi stupito spero che vi sia piaciuto vi ringrazio per avere guardato questo video velocissimo non vi dimenticate anche di fare un salto nel secondo canale che si chiama xuder best moment lo trovate nella home page di questo canale un abbraccio a tutti e a me mi trovate con efesto proprio adesso in live su twitch ciao ciao